Michele Gubitosa del Movimento 5 Stelle. Gubitosa, secondo lei voleva rimanere indipendente, come hanno detto in molti, Zacchi, oppure c'è un'associazione da questo governo? Adesso sentiremo le sue parole tra poco. Non ho letto tra le sue parole un messaggio politico e le dirò, anche secondo me, oggi è una bella giornata per l'Italia, i complimenti vanno al corpo diplomatico italiano, ai vari governi che hanno lavorato affinché questa liberazione avvenisse. E quindi io direi di non fare polemiche, di festeggiare questo giorno e quindi di andare avanti, perché concordo con il direttore che ai cittadini italiani interessa poco la polemica. Allora, la polemica è sì, però in realtà io mi chiedo se comunque non sia stato sgarbato in qualche modo il fatto che, a qualunque fosse il governo, al di là dell'appartenenza politica... Io le do il mio pensiero personale, ma magari sarà sbagliato. Perché si è impegnato per portarti a casa. Di solito con l'aereo di Stato si rientra quando c'è un prigioniero che si va a prendere una persona in difficoltà. Io credo lui, ecco, vuole essere un uomo libero sia in Egitto che in Italia, e quindi ha preferito un canale, diciamo, che utilizzano tutti i cittadini liberi. In fondo hanno ragione, perché Conte, anche il governo Conte, ci aveva approvato, però non ci è riuscito. Quindi magari c'è anche un peso del rispetto di cui gode l'Italia oggi. Guardi, io ripeto che secondo me il corpo diplomatico ha fatto un buon lavoro e tutti i governi che hanno trattato il caso hanno fatto la loro parte. Perché, cioè, puoi dire che è merito della Meloni, credo sia un po' esagerato. Anche perché poi la Meloni ogni volta che c'è un qualcosa che non riesce a fare o su cui magari è in difficoltà, dice che è colpa dei vecchi governi. Quando poi c'è da prendere un merito, a suo dire, io direi che su questa cosa evitiamo di prendere meriti perché non è una cosa carina prendere meriti su situazioni così delicate. Comunque quando c'è un merito da prendere, la Meloni dice che è tutto farina del suo sacco. Quindi mettiamoci d'accordo. Io credo che alla fine dobbiamo essere anche onesti con i cittadini e dire che il lavoro è stato fatto bene dall'Italia tutta. Ma è fallita miseramente la narrazione che voleva un governo Meloni con una leader che sarebbe stata così rifiutata da tutti. Avremmo trovato i cavalli di Frisia davanti alle caccellerie europee. Nessuno nel mondo le avrebbe rivolto la parola o stretto la mano. La realtà è tutta un'altra. Dispiace per i portatori di sventura... Che si è ribaltato a Foti, no, la Meloni? Ha innegato tutto quello detto in campagna elettorale. Guarda, io non ti sto interrompendo. Lasciamo chiudere Foti. Ce l'ho già detto due volte. Chiuda, chiuda Foti. Ce l'ho già detto due volte che devi imparare l'educazione. Può parlare. Perché diversamente non ti faccio più parlare quando stai parlando. Vai, vai. Si è ribaltata però, dicevo la Meloni. Vai, non lo dici tu. Vai, non lo dici tu. Prego Foti, continui. Chiuda pure il discorso. Ma tu difendi il Presidente del Consiglio. Che è stato con Salvini e col PD. Foti, sei tu al governo. Siete voi al governo. Parliamo del governo. Basta prendercela con i governi precedenti. Ogni volta che siete sotto attacco, mettete in mezzo i governi passati. Ci siete voi al governo. Aspetta, Gubitosa. Andate a prendere le vostre responsabilità. Avevo la parola io. Aspetta, Gubitosa. Gubitosa, un secondo. Finisce Foti. Ma io non glielo consento. Finiamo il discorso. Finisca pure il discorso e poi risponde Gubitosa. Prego. No, io finisco se mi lasciano finire. Ora non l'interrompono più. Altrimenti abbassano. Per favore Donato abbassa il microfono. Però, Gubitosa, no, siamo a scuola. È un po' nervoso, Foti, mi dispiace. No, 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 non è nervoso. Prego, finisca il discorso. No, è Gubitosa che ha due voti. No, va bene, però Foti, stiamo finendo il tempo. Io ne ho uno solo. Mi dica soltanto se, perché Gubitosa diceva questo. Quelli della Meloni sono dei successi che danno fastidio. Ok. Quindi, Gubitosa, abbiamo interpretato male noi l'atteggiamento di Meloni prima, oppure è cambiato? Ma, lo ha detto lei, no. Senza polemizzare, insomma. Io non penso che tutti i cittadini italiani e tutti i partiti abbiano interpretato male la Meloni prima. Io penso che la Meloni, in maniera scientifica e certosina, abbia fatto una narrazione politica solo di propaganda e quando poi è arrivata al governo ha ribaltato tutto, ha tradito tutto ciò che ha detto in campagna elettorale, tutto ciò che ha detto dai manchi dell'opposizione. Lo ripeto. Sarà ridicolo. Ecco, il blocco navale. No, noi ce la ricordiamo questa ora, blocco navale, era la soluzione a tutti i migranti, il blocco navale. È arrivato al governo e ha capito che, invece, il problema andava risolto in Europa e si risolveva con la ridistribuzione. Poi mi lasci anche dire due parole su questa conferenza dei migranti di oggi. Cioè, ma l'abbiamo sentito. Innanzitutto continuiamo con la propaganda. Fa la conferenza e vanta la Meloni un grande successo di questa conferenza dei migranti, però in realtà, mentre continuo a fare propaganda... Non è che voi non avete fatto propaganda, bravo. Non è che voi non avete fatto propaganda, bravo. Mi faccio completare. Diamo una notizia ai cittadini. Il Movimento 5 Stelle non è più al governo. Oggi ci sono loro. Scusi, Gubitosa, perché non va bene? Mi chiuda dicendomi perché non va bene la conferenza di oggi. Ricordiamo, scusa, a chi ci ascolta questa conferenza per cercare di risolvere il problema dell'immigrazione con tanti capi di Stato. Gli lo dico in due parole. Perché mentre faceva questa parata, questa propaganda, sono arrivati invece, con lo stesso periodo dell'anno scorso, tre volte i migranti rispetto all'anno scorso. 80.000 migranti. Però è per questo che fa la conferenza. Per quello che si incontra per cercare di risolvere il problema. Poi le dico un'altra cosa. Vogliamo entrare nel merito delle dichiarazioni? Le cito due dichiarazioni che le dico alla verità. Mi hanno fatto sorridere mentre stavo venendo in trasmissione. La prima di Tajani, dopo tutta questa megaconferenza, il ministro degli esteri dichiara il problema dei migranti va risolto alla radice. Io pensavo invece che lo dovevamo risolvere dall'alto. La Meloni, l'immigrazione illegale danneggia tutti. Io pensavo invece che l'immigrazione illegale favorita è di fare queste cose. Ma quando iniziate a risolvere realmente i problemi, la propaganda è finita, tutti i ribaltoni possibili li avete fatti, perché ha rinnegato tutto. Però adesso iniziamo a risolvere i problemi. Poi oggi ho sentito per l'ennesima volta un altro termine. Poi chiudiamo. Il piano Mattei. Ecco, ma qualcuno mi può spiegare che cos'è questo piano Mattei? Sono sei mesi che ne vanno. Allora, Claudia Fusani. È solo un titolo, è solo un brand. Basta, spengo il pulsante. Allora, Claudia Fusani, il metodo Tunisia, il modello Tunisia, il piano Mattei, secondo te sono la direzione giusta in cui andare, cioè avere un rapporto con questi... Gubitosa, ora però la devi smettere. Esatto, con dei leader considerati antidemocratici è giusto per arrivare a degli obiettivi. È la direzione giusta, è la cosa da fare, abbiamo scoperto l'Africa finalmente, abbiamo sentito dire oggi in questa conferenza l'Africa non è un paese povero, un paese sfruttato, anche lì alla buon'ora ci siamo arrivati. Tutto vero, ricordo che 4-5 anni fa, anche di più, 6 anni fa, c'era che diceva risolviamo il problema a casa loro, cioè in Africa. Quindi la prospettiva Africa è, come dire, da qualche tempo, adesso questo governo, siccome si è reso conto che non poteva fare il muro navale perché una parte delle cose sono vere, cioè c'è stata una propaganda completamente diversa, si è reso conto che invece la direzione è un'altra, ben vengono le conferenze, la diplomazia e degli accordi, del memorandum, l'accordo con la Tunisia è un modo, certo, poi le foto che vediamo della donna morta, agonizzante, con la figlia accanto nel deserto, ti levano il sonno, quindi c'è tanto da lavorare lì, però non c'è dubbio che la direzione sia quella di coinvolgere l'Africa. Mattei, ti ricorderò, questo fece. E Draghi, 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 che l'anno e mezzo che c'è stato, fece tutte le conferenze. Allora, scusate, voglio sentire Vecchi, Gubitosa, Gubitosa, allora, scusate, voglio sentire Vecchi, però a me fa specie sentire Gubitosa parlare di propaganda, visto che lui... Parliamo del Movimento 5 Stelle. No, Gubitosa, deve lasciare parlare. Parliamo di questo governo, proprio sta a parlare del passato. Gubitosa deve lasciare parlare, poi risponde... Ogni volta che sono sotto attacco, mettono in silenzio i governi. Ma no, risponde dopo, risponde dopo, a sto tu. Fa il grillo parlante, quindi lo mandano in televisione perché fa papapapapa e parla su tutti. No, noi lo mandiamo perché vogliamo avere invece... In realtà, no, no, Gubitosa, deve aspettare, vai, finita. Fossi in Gubitosa, io me preoccuperei di più quello che accadde nel suo partito. Ora salta il terzo limite del terzo mandato, vogliono il finanziamento pubblico ai partiti. E dei problemi degli italiani, quando parliamo, la città è sempre in casciana, terzo mandato, di cosa vogliamo parlare? Però, Gubitosa, è indisciplinato. E quando parliamo di quello che stanno facendo, degli stracelli che stanno facendo questa idea? No, no, questo non interessa le persone. No, è il terzo mandato del movimento, le persone. Interessa questo? Interessa la direzione dell'Africa. Però, Vecchi, mi dica, esatto, parlando di quello di cui stiamo parlando, mi dica cosa vuol dire prima le persone. Se anche Zaccheo Migranti l'avesse risolto Conte, saremmo qui a dire bravo Conte. Quindi basterebbe, Gubitosa, un minimo ronestà, anche sui migranti. Il piano Mattei esiste, è sulla carta, non si può, non si riesce. Ma i pranzi di Natale a lei lo invitano, perché oggettivamente è fastidioso. Io non vorrei venire a cena con lei. Chiunque parla, lei interrompe. È incredibile, è fastidioso. Perché voi sfuggite al confronto. E quindi dobbiamo riportare il discorso sulla giusta strada. Non che buttate la palla in tribuna, non ve lo consento. A voi dà fastidio, che io vi chiodo al muro. Questo dà fastidio, che vi chiodo al muro. E dovete rispondere quando vi faccio le domande. Per favore, abbassate. A Gubitosa sicuramente a Natale danno tutti ragione. Tra poco continuiamo a parlare di questo. Gubitosa, in pratica, scusa Claudia un attimo. In pratica dice Foti, è un po' responsabilità vostra. Se da una parte non c'è stato un accordo giusto con i sindacati. E dall'altra non avete raggiunto il salario minimo. Perché non l'avete fatto voi? Allora, iniziamo a rispondere un po' a tutto quello che... Queste due cose però, rispondiamo a queste due. Ne ha dette dieci, rispondo pure a due. E appunto, noi abbiamo fino alle 21 e 30. Allora, mi dica quale rispondere. Queste due, perché non le avete fatto voi? Il motivo perché non le abbiamo fatto prima. Uno, la prima proposta di legge sul salario minimo, il Movimento 5 Stelle, l'ha presentata nel 2013. E il collega Foti può chiedere al suo collega Rizzetto... La legge? Rizzetto. L'abbiamo presentata nel 2013. Dopodiché, può chiedere anche a Rizzetto... La legge, non la proposta di legge. L'abbiamo presentata... Eh ma, se poi non avevamo la maggioranza e non è diventata legge, non è certo colpa nostra. Sei stato al governo quattro anni e mezzo. Foti, ma allora, io non ti ho interrotto, perché mi ha chiesto gentilmente di non interromperti. Ora tu mi stai interrompendo. Io non ti ho interrotto. Hai aperto dieci domande. Gubitosa, vada avanti per favore. Però non mi faccio interrompendo. No, 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 vada avanti, la prego Foti, abbiamo domato Gubitosa. 2013 abbiamo presentato la legge nel 2018 e poi quest'anno l'abbiamo ripresentato, o meglio questa legislatura, ad ottobre dell'anno scorso. Quindi non è che l'abbiamo presentato oggi. Noi ad ottobre dell'anno scorso, a firma Giuseppe Conte, abbiamo presentato la legge sul salario minimo. No, è così, mi pare 12 o 24, non ricordo, è comunque ad ottobre. Dopodiché, qual è il motivo per il quale non si può parlare ora, in commissione, tutte le cose che ha detto Foti, no? Sono tutte cose su cui non sono d'accordo sul salario minimo. Però mi rendo conto che se noi abbiamo fatto una proposta di legge sul salario minimo, loro sono maggioranza e hanno tutto il diritto di poter argomentare e spiegare cosa non piace, e poter emendare la nostra legge e modificarla insieme con il dialogo e il dibattito. Quindi dovrebbero già adesso, subito, accettare e andare avanti. La domanda è, se questo fosse vero e quindi loro vogliono aprire un dibattito, qual è il motivo per il quale l'unico dibattito che hanno aperto è un emendamento, che è l'emendamento che sopprime tutta la legge. Allora io penso che se si voleva parlare di queste cose, con cui mi piacerebbe parlare con Foti, discuterne insieme al suo partito e al mio partito, se si deve parlare di queste cose in tv è un discorso, io ne vorrei parlare in Parlamento, di queste cose e rispondere il motivo per il quale per noi è importante stabilire l'importo e per quale motivo giustamente i sindacati... Bisognerebbe andare avanti, abbiamo capito, Gubitosa, io vorrei che mi rispondesse adesso Verderami. Sto dicendo che, mi corregga se sbaglio, l'onorevole Foti è attraverso la mediazione su questa proposta che loro vogliono arrivare a un problema che non è il salario minimo, ma è la riduzione delle tasse... Su cui noi siamo d'accordo la riduzione delle tasse, ma sono due cose separate, da un lato ci sono i contratti pirata firmati con sindacati non di riferimento nazionale che sono a 4-5 euro l'ordine allora. Come voi potete fare questa riforma della rappresentanza, no? Dall'altra parte abbiamo l'abbassamento del cuneo fiscale per consentire ai dipendenti che invece hanno dei contratti nazionali rispettabilissimi, metalmeccanico, commercio, e quindi lì dobbiamo aiutarli con l'abbassamento del cuneo fiscale. Sono due cose separate, tra l'altro quella del salario minimo coinvolge moltissimi cittadini. Gubitosa non mi puoi fermare anche l'agenzia, ti prego. No, però ho fatto così, è sbagliato, perché è una media che state facendo, però se c'è qualcuno che prende 500 euro al mese, oppure prende 4 euro l'ordine all'ora e lo portiamo a 9, lì è del 100% l'aumento in bussa paga. Però spieghiamo delle cose, cioè quella è una media fatta da chi ne prende 8 fino a chi ne prende 4, però se io prendo 4 euro l'ordine che sono 600 euro netti al mese, a me mi si raddoppia. E' orrendo, che è orrendo di sbagliato, scusate, mi prego le bontate da vecchi. Sono 60 euro anche a chi prende 500 euro. Facciamo capire le persone, i 4 euro vengono fuori da contratti pirata, che vanno eliminati. E anche alcuni contratti che ora non sono rientrati nella contrattazione collettiva. Guvitosa, secondo lei, ecco, questa è una cosa, e poi il salario minimo è giusto dappertutto, 9 euro, senza fare nessun tipo di distensione. No, rispondo in merito subito alle osservazioni fatte. Cioè, per noi è follia aumentare gli stipendi solo in una parte d'Italia, o lasciarli invariati o diminuirli in altre. Però le dico una cosa, il fatto che al nord, in tutte le città, la vita costa di più, e che al sud, in tutte le città, la vita costa di meno, anche questa è un'altra follia, perché io le posso garantire che se lei vive a Bari, a Napoli o a Palermo, di sicuro ha delle spese più alte di che se vive, che ne so, in Lombardia in un comune di 5.000, 8.000 abitanti. Quindi, cosa facciamo allora? Andiamo a cambiare gli stipendi città per città? No, la soluzione va trovata dall'alto. E quindi, salario minimo da un lato, che metta fuori gioco i contratti che non sono di riferimento nazionale o firmati con sindacati non importanti, e dall'altra parte abbassare il cuneo fiscale per dare più soldi in busta paga ai lavoratori, in quel caso a parità di costo per le imprese che applicano quei contratti. Perché non è giusto. Grazie ai miei ospiti, vado velocissima, Fusani, Gubitosa, Verderami, Foti, Becchi, e domani un'altra puntata di Controcorrente. Buona serata.